Non c'è un discorso sul merito quando si parla di liste bloccate perché si entra veramente in contraddizione. Se si sostiene che la preferenza è fonte di corruttela e quindi si sostengono liste bloccate, rimettendo quindi alla disponibilità dei partiti la formazione delle liste, una norma sulla parità di genere e il minimo di garanzia il rispetto degli articoli 351 della Costituzione, tra l'altro coloro i quali oggi ritengono addirittura di doversi pronunciare con interviste, perché non lo hanno fatto quando abbiamo votato come Forza Italia la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, la legge elettorale che prevedeva quote rosa per le europee, per gli enti locali e per le società quotate in borsa. Come mai solo quando si tratta di legiferare per questa Assemblea, per questo Parlamento, c'è la sollevazione su questo tema. Noi riteniamo che sia una battaglia di civiltà, ci sorprende leggere ancora i discorsi, la taccere, il merito, si figuri se io non sono per il merito, ma proprio perché sono per il merito, credo che affinché non vengano escluse donne che meritano, serve una norma di garanzia più cogente. Grazie.